Ciao a tutti, sono Francesca di Artigianelli. Oggi vi spiegherò la procedura per attivare la correzione automatica su Google Documenti. Questa funzione è molto utile in quanto può semplificare la vostra esperienza di scrittura e migliorare la vostra produttività. Iniziamo! Il primo passo è aprire Google Documenti e creare un nuovo documento oppure aprirne uno esistente su cui si desidera lavorare. Facciamo ora clic sulla scheda Strumenti nella barra del menu superiore dove troveremo la sezione Ortografia e Grammatica. A questo punto dobbiamo assicurarci che le opzioni Mostra suggerimenti ortografici e Mostra suggerimenti grammaticali siano selezionate, ossia sia presente il segno di spunta alla loro sinistra. Nel nostro caso sono già attive. Come possiamo vedere nella frase del documento, le parole non scritte correttamente sono sottolineate, nello specifico gli errori ortografici sono sottolineati in rosso, mentre gli errori grammaticali sono sottolineati in blu. Correggere un errore è semplicissimo, basta cliccare la parola sottolineata e selezionare la correzione suggerita. Grazie, spero che questo video ti sia stato utile. Se vuoi approfondire altri strumenti li trovi sul nostro sito. Trovi tutti gli altri video al link presente in descrizione. A presto! Grazie!